Nell'ambito dell'educazione non è sempre facile trovare risposte alle molteplici situazioni in cui ci si imbatte, è opportuno però alimentare la buona prassi del prendersi cura delle persone, quindi anche dei ragazzi con disagi senza che l'educatore diventi un supereroe ma un semplice ed efficace compagno di viaggio. Su questo nodoso tema si è svolto il secondo incontro di formazione per educatori preparato dall'equip diocesana dell'azione cattolica dei ragazzi e svoltosi giovedì 26 febbraio a San Costanzo. Dopo un momento iniziale dove i ragazzi sono stati invitati a immedesimarsi nei panni del ragazzo tipo è stata la volta dell'intervento del dottor Nicola Furio psicologo dello sviluppo e dell'educazione. Parlando in termini di ecologia ovvero del ruolo dell'educatore fra le tante sfaccettature della vita dei ragazzi l'ospite dell'incontro ha ragionato su come l'educatore debba cercare non tanto di risolvere il problema che affligge il ragazzo bensì provare a sfruttare al meglio il tempo e le occasioni a propria disposizione. Dunque l'abilità del bravo educatore risiede nel produrre subito un evento coinvolgente captare il frangente giusto per rivolgersi singolarmente ai ragazzi o al gruppo sapere osservare e ascoltare ricordando che l'animazione permea laddove c'è emozione.